Eccoci qua raga, siamo contro Camilla L'esperta campionessa di Pokémon Platino della quarta stagione Allora, andiamo, partiamo Allora, la prima volta è stata molto difficile Però poi ho capito che i suoi Pokémon erano molto alti Allora mi sono allenato fino al suo livello, il level cap E' diventato una passeggiata Ora vi spiego anche come si può fare Beh, ovviamente dobbiamo stare sempre attenti a quello che ci portiamo a Cioè, o meglio, gli attacchi noi faremo Però penso che possiamo farcela Certo, se si diminuiva la difesa magari era meglio Ok, perfetto, non possiamo più prenderlo Doppio team, perfetto, perfetto Vai Lanciafiamme D'altronde lanciafiamme ha moltissima precisione Milotic, l'attaccante della Lazio Attenzione Ok, la difesa diminuisce L'umino è secondo da Drago E scappiamo E vediamo chi ci putta Uh, buono Kyurem Mi è andata bene Mi è andata molto bene Ortraggio Ok, ricarica tot Così attaccheremo due volte noi Lucario Possiamo fare l'ottraggio anche se tecnicamente, essendo un tipo acciaio, resiste E infatti, vedi Forza Sfera Dai è così, dai è così Uccidiamolo Eh, lui purtroppo ci batte Garchomp Er Garchomp de Gamilla Cambia Perché adesso ci conviene mettere Spaccavossa Così lui non potrà usare terremoto Però d'altro canto potrà usare solo Dragoforia Quindi magari è più pericoloso Certo sarebbe stato figo Ma figo, figo Se avessero potuto mettere anche questo Questo tipo di Ah, è più veloce Ok, è più veloce Niente, Dragoforia Smaug Smaug diciamo, Dragoartigli Manca l'ultimo Ah no, scusa, sto sbagliando Non è l'ultimo Mi sembra C'è ancora il tipo volante Ecco, ora è l'ultimo Buono, si gira da solo E quindi vinciamo noi Bene ragazzi Abbiamo battuto Camilla La campionessa Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti